fragile poi per gli altri si vedrà. Assolutamente sì, anche perché noi siamo molto rispettosi di quello che è il parere della comunità scientifica e sono d'accordo con quello che ho ascoltato da parte del professor Rasi, in ordine anche al fatto che magari se ci fosse stata non siamo riusciti a contenerla o comunque a organizzarla una comunicazione più lineare, più chiara, meno compulsiva in questi due anni, probabilmente i cittadini non avrebbero avuto bisogno o il governo non avrebbe avuto bisogno di ricorrere allo strumento così, un po' maldestro del Green Pass perché avrebbero avuto quel bagaglio di informazioni appunto tali da poter essere convinti come dovrebbe accadere in democrazia senza imposizione di accedere al vaccino, invece ci siamo trovati in una situazione paradossale. Però non abbiamo ancora certezza sulla terza dose, diciamo che si procede per approssimazioni, ce lo insegna questo virus, i vaccini, insomma. Ci sono alcune informazioni appunto che dovrebbero essere elaborate a mio giudizio innanzitutto all'interno degli organismi preposti e poi una volta avuta chiara la realtà e le sue insidie raccontate attraverso il circuito mediatico. Questa insomma diciamo che è una discussione accademica perché sappiamo che non è possibile perché l'informazione ha comunque bisogno a sua volta di notizie e quindi comunque si fa tutto in diretta mondiale. Quindi questa sperimentazione è una sperimentazione paradossalmente che non avviene soltanto nei laboratori ma avviene in tempo reale anche attraverso il circuito mediatico e questo non può non generare oggettivamente dei dubbi alla popolazione. Io non credo che ci sia niente di male però insomma è la ricostruzione della realtà e di fronte a questa realtà il giudizio... Ci parecchia di male visto che dobbiamo convincere la gente a vaccinarsi quindi se è così, no menafra?